Condividere un'esperienza, ricaricarsi per l'anno prossimo e soprattutto riflettere sul modo in cui ritornare alla comunità il bene che gli è stato dato. Sono i borsisti della Curia ragazzi scelti per le loro capacità e che senza l'impegno della Chiesa napoletana avrebbero avuto difficoltà ad affrontare le spese universitarie. Per loro è stata organizzata per il secondo anno consecutivo una vacanza a Pietralba in provincia di Bolzano, così che possono fare gruppo e perché no riflettere su alcune tematiche. Condivideremo come dicevo tante belle esperienze legate alla nostra storia personale ma soprattutto alla realizzazione dei sogni per il futuro. La tematica di quest'anno sarà proprio il dar da mangiare agli affamati, secondo la lettera che il Cardinale ha proposto e saranno affrontate tre tematiche, la fame di pane, la fame di giustizia e la fame di futuro. Speriamo che davvero possiamo ritornare un po' più sazi ma soprattutto affamati per poter affrontare un anno insieme con tanto entusiasmo e tanto spirito di coinvolgimento per la città. Mi aspetto che oltre a questo viaggio ci potranno essere anche altre occasioni per poter veramente aiutare gli altri, quindi a poter aiutare i poveri, gli emarginati della città. Per la curia questi ragazzi, al di là delle loro convinzioni politiche e anche religiose, sono importantissimi. Loro, dice il Cardinale Sepe, saranno in futuro il messaggio vivente della solidarietà della nostra terra. Solidarietà, cioè loro sanno di essere oggetto di gesti di bontà, di solidarietà da parte di tanti che hanno offerto loro questo aiuto. Però quello che ricevono poi lo devono dare, nel senso che il giorno in cui sono in grado di poter comunicare agli altri questi valori fondamentali della vita e dell'esistenza, allora sono chiamati ad essere come dei testimoni di quanto hanno ricevuto oggi.